Chi è questo qui? Mojito, ma chi è questo qui? Eh? Chi è questo qui? È la prima volta che vieni qui lui, ma non mi sembra per niente spaventato che mi trova l'azzo, anzi Dì, prima volta che mi faccio il bagno, perché me l'ha sempre fatto a casa È vero? Pensavo di venire qua che la zia mi tagliasse il pelo, ma la zia gli ha detto assolutamente no A me il pelo non può essere tagliato perché non sono una tipologia di cani che il pelo può essere tagliato E quindi facciamo solo un bel bagnetto e vediamo tutti sti peli magari che cadono un po' in casa con la slanatura, giusto? Mica ti faccio uscire il pelato io da qui, eh? Ma scherziamo, siamo belli così Mica ti faccio uscire il pelato che è brutto, bruttissimo, guardabile proprio, eh? Vedi vedere? Ciao a tutti, non ho voluto, è solo un pazzo Un pazzo! Un pazzo! Non ci abbiamo paura di nulla Guarda qua, guarda qua 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 Sciampetto Guarda qua Guarda qua Guarda qua Guarda qua Guarda qua Sì Se non gli attieni la testa, crolla. Quello, questo giovane ragazzo, guarda poi ora che gli trovate i miei peglietti, ragazzi io... Sto dovendo dire? Ragazzi, io sono troppo rilassata. Cacciattino, il più bravo del mondo! Risciaggiamo il barfago e poi asciugatore, poi a casa. Anche se qua tutto sfumato non si sta male, vero Ito? Viene l'asciugatura. Ma vuole le coccole lui, vuole le coccole anche di asciugatura. Vedete, si è arrivato qualcuno. Chi c'è? Sono venuti a prenderti! Seduto? 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 Fai in seduto che sei bravo. Non so che lo so... Niente, noi facciamo il circo. Bravissimo! Certo! Sittà!